Ciao a tutti i soci di Pura Vida 2.0 Già da subito potrete entrare nella libreria di Pura Vida 2.0 quindi vedere tutti i video senza dover prenotare ogni giorno ma sarà molto semplice da adesso dovete cliccare su prenota invece di andare su orario elezioni live e quindi prenotarvi giorno per giorno come avete fatto fino a oggi dovrete andare qui sotto su pillole di Pura Vida benvenuti in pillole di Pura Vida e qui potrete accedere a tutti i video caricati eccoli qua, in ordine i più recenti li troverete, guardate quanti sono, giù in basso quindi i più recenti saranno in basso durante la settimana e poi verranno riordinati per tema quindi troverete su in cima per esempio la cervicale, la zona dorsale, la lombare e poi via via tutte le lezioni di tonificazione in questo modo potrete accedere alla libreria quando volete e guardare i video che volete senza rischiare di perderne neanche uno ciao ciao